Il Teatro Placido Mandanici si prepara a una nuova stagione, è stata approvata infatti la delibera che individua il programma e assegna le risorse necessarie per avviare la quarta stagione consecutiva della gestione in house. Quattro stagioni che hanno visto salire sul palco del teatro barcellonese artisti di spessore come Massimo Ranieri, Edoardo Bennato, Cristiano De Andrè, Tullio Solenghi, Enrico Ruggeri, ma sono state anche stagioni intense sotto il profilo dei laboratori teatrali che hanno permesso ai giovani talenti locali di potersi esprimere. Ultimo di questi laboratori, quello diretto dal maestro Sasanneri e che ha portato alla produzione dello spettacolo d'Artagnan nei tre moschettieri, non si colpisce chi si ama. Lo spettacolo andrà in replica in data da definirsi solo per le scuole. All'orizzonte anche due iniziative per avvicinare il teatro alle giovani generazioni, oltre alla riconferma del percorso laboratoriale, una mini stagione con spettacoli previsti la domenica pomeriggio per bambini, ragazzi e famiglie, nella convinzione che gestire un teatro comporti anche educare alla sua frequentazione. Già in programma il tale quale showman di Maglio Dovia a ottobre, la tempesta di Shakespeare per la regia di Roberto Andò a novembre, Love Letters con Raoul Bova e Rocio Munez Morales a dicembre, quando si terrà anche il tradizionale concerto di Natale. A gennaio sarà la volta del Lago dei Cigni, a febbraio show della coppia Lopez Solenghi, a marzo Nancy Brillin a cosa servono gli uomini per la regia di Lina Vermuller. La serie di spettacoli domenicali vedrà il 10 novembre il mago di Oz nel Paese delle Meraviglie, che ripropone il gioco delle ombre della sabbia, il 26 gennaio la fiabba tutta siciliana Giuffà ed il 22 marzo la Gazza Ladra. I biglietti saranno messi in vendita non appena si sarà perfezionato l'iter procedurale previsto e si riaprirà il botteghino nella prima settimana di settembre.